Grazie a tutti e benvenuti nel nostro canale IGG Hypergrinder. Oggi sono qui per insegnarvi più sull'hyper countertop, il più potente bench grinder sul mercato, ideale per countertops, stair, benchtops e area narrow. Con questa macchina hai un concentrato di tecnologie in voi, e puoi incontrare e pulire ogni superficie in marbo, granito, concreto, terrazzo e ferro. In effetti, grazie a un motore potente e, un planetario con la rotazione di contrarotazione del satelite, hai la possibilità di usare ogni tipo di strumenti, da metalli a resino, da sandpaper ad abbasico, e, ovviamente, anche Bush Hammer, e le pennellate per l'antique finiscia. I punti principali del nostro countertop, come puoi vedere, sono l'ease di usare, dato che il perfetto balancio, che ha il planetario counterrotativo che effettivamente cancelli la rinforza. Questo planetario è inizionato e non è un belto per la più efficienza e la performance in termini di risultati e durazione. per il tempo. Il planetario del countertop è disponibile in due strumenti di lavorazione, 2,19mm e 3,13mm. Il 2,19mm come 100mm, il 3,13mm e il 3,14mm. La macchina è disponibile con una velocità variabile che permettono di finire con un'esercizio. Può funzionare, oltre 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 oltre, grazie a compilità con il standard high safety. il standard. Poi, la macchina è usata, 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 la strumentità di un peso di circa 30kg, ma è facilmente manovrable da un'ergonomica effettiva per l'attuale lavoro. Il kit essenzial dell'hyper countertop è un tank di 2 litri per il processo di sceglie, una connessione pratica con un calcio di vacuum per il processo di sceglie, una band di sceglie, e tre pade con un attaccamento di sceglie. Anche, un lato lungo opzionale può essere usata con un tank di sceglie per diventarlo in una macchina di sceglie o un lato lungo per l'esercizio per le stagioni e le montagne. È appropito di dire che con l'hyper countertop avrai tutto in mano e con un'esercizio che farà ogni tipo di lavoro comforzato. Vi ricordo il nostro sito hypergrander.com e non dimenticate un like sul nostro canale YouTube ci vediamo per voi sui nostri contatti social e ci vediamo la prossima volta. Ciao Alessandro Alessandro